Anticipazioni Beautiful, giovedì 26 marzo 2020. Wyatt resta sbalordito dal discorso di Sally che aggiunge che poter disegnare un'intera linea alla Forrester che sarà per giunta sponsorizzata da un importante cantante rappresenterà per lei una vera e propria svolta. Wyatt la capisce ma non può fare a meno di rammentarle il loro precedente accordo con Bill Spencer. Poi vedendola pensierosa le promette che rispetterà la sua ultima decisione. Quinn e Flo vanno al bar insieme e parlano di Wyatt. La Fuller insiste con l'ex nuora, deve riconquistarlo, erano felicissimi insieme, lo ricorda perfettamente. Bill intanto in ufficio mette al corrente Justin della fine della loro carriera nel mondo della moda. Ha appena saputo che Sally resterà alla Forrester. Nonostante ciò potranno contare sulla presenza di Wyatt che lavorerà al suo fianco dando il meglio di sé. Chetty sopraggiunge proprio in quel preciso momento complimentandosi con Bill. E orgogliosa di lui sta pian piano riuscendo a riconquistare la fiducia di tutti i suoi cari. Chetty poi dice di aver ricevuto un messaggio da parte sua e la Logan capisce che è stato Will ad organizzare il loro incontro. Il discorso poi si sposta sulla morte di Caroline. A interrompere improvvisamente il loro dialogo è una delle assistenti dello Spencer che accompagna una chef stellata nell'edificio. Ad averla mandata appositamente per loro è Will Spencer pronto da fare da cupido alla coppia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.